Amsterdam è una città bellissima, le persone sono molto gentili, molto disponibili, tanto verde, tanta natura e tanta droga, ma in realtà non sono nemmeno gli olandesi che si drogano, sono più turisti. L'ho fatto anche un'esperienza legata al mondo delle droghe, che non entrano nel particolare, ma vi posso dire che mi ha fatto capire le cose. Era la prima volta che facevo utilizzo di droghe in vita mia, però lì è legale, quindi ho voluto provare, ho voluto provare. E non me ne ho pentito, non mi sono praticamente pentito, anzi, rilancio che è stata l'esperienza più bella della mia vita, anche sul viaggio da 6, a 9. Avevo anche molto paura di farlo, io ho un io giudicante molto forte, però mentre succeda questa cosa, il mio io giudicante è andato via per un attimo, per qualche ora. Non è importante, ma è importante. E questa è la filosofia che è nata da questo viaggio, diciamo così, non è importante, ma è importante che lo sia. È tutto e niente, è tutto e niente. È incredibile, ragazzi. Grazie a tutti. Grazie.